Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, un nuovo video con... Enrico Teramo, yeee! Vabbè se non la conoscete andatela a seguire sul suo canale No, grazie sempre, ormai facciamo tante cose insieme Un sacco, un sacco Vabbè oggi mi è venuta a trovare, pensate, a Bergamo Ti è piaciuta questa città? Niente, oggi stavo poco bene, ho dormito qua e poi non ho ancora visto la città Adesso sto meglio, ma come prima in parte mi piace perché è la città pulita Ci sono tante cose anche moderne, ma anche chiese, quindi voglio vedere proprio se avessi tempo Perché adesso facciamo questo video perché ci abbiamo giusto questi 20 minuti Perché poi eravamo già d'accordo di andare in palestra, ho detto vabbè ci abbiamo 20 minuti Insomma non li buttiamo via, abbiamo detto in 20 minuti diciamo i 10 motivi per il quale è bello vivere in Giappone Bene Io vivo anche in Italia, però mi piace vivere anche in Italia Però abbiamo pensato a tante cose perché forse è meglio vivere in Giappone queste cose Per esempio in Giappone è molto sicuro Sì In Italia per esempio vivere vicino alla stazione mi fa paura Cioè non posso camminare di sera da sola con una donna, è pericoloso Ma in Giappone per esempio, soprattutto vicino alla stazione è comodissima Ci sono i centri commerciali E quindi anche l'affitto è più caro perché di solito la zona vicino alla stazione è molto richiesto È molto sicuro Anche perché spesso ci sono i Koban che sono le piccole stazioni di polizia che sono vicino alla stazione Sì 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 Perché i paesi vanno invece in vacanza all'estero Perché poi Succedono che? Ti rubano? Sì perché non siamo abituati In Giappone dormi in treno con la borsa aperta e qua non si può Eh no 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 Non è un problema dell'Italia in realtà È il Giappone che è particolarmente sicuro Perché come in Italia anche in Francia E penso in tanti paesi non puoi lasciare la borsa al McDonald per esempio Vabbè questo però è il primo motivo importante Adesso che siamo in Italia stiamo un po' più attenti Sì io qua sempre Sì sto sempre attenta Il secondo motivo per il quale secondo me è bello vivere in Giappone è proprio una cosa che mi piace È la pulizia che c'è dappertutto nelle strade, sui treni È veramente pulito Per me bagni Sì In Giappone sì perché comodo ce ne sono sempre e poi puliti Anche la strada Esatto ma poi i bagni voglio dire sono tutti gratis Cioè io non riesco a capire perché in Italia si pagano Si pagano E sono anche più sport Cioè sono sport che spesso non sempre A volte li paghi e sono puliti Però a maggior ragione se lo paghi voglio che sia pulito In Giappone non so come fanno a tenerli puliti Ma tra l'altro ci sono anche delle scritte sui bagni che c'è scritto Prisci l'asse del cesso Cioè in Giappone no? C'è la salviettina per pulire quando hai finito Qualche volta si c'è anche sapone tipo a posto Sì 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 è una cosa incredibile Anche a scuola gli insegnanti insegnano ai bambini che quando tu per esempio vai a un posto C'è la salviettina per pulire Praticamente i hanami Come lo sapete E uno dei momenti in cui ho visto magari la città di Tokyo più sporca E sicuramente vabbè Il sabato sera magari esce in Giappone Per cui c'ho O soprattutto Shibuya dopo Halloween La mattina dopo è un disastro Perché comunque c'è una res a Halloween Ogni anno sta diventando più grande Sì moda È incredibile Però io devo dire che ci sono andata un paio di anni fa ancora la bella Adesso è eccessivo Non riesci neanche più a muoverti Eh io Non mi fa neanche voglia di andare No ma un paio di anni fa Troppa gente Un paio di anni fa era bellissimo giuro Però ci hanno anche ribaltato un camion questa volta E c'era uno straniero che era lì che cercava di fermarlo Quindi chiunque tu sia bravo Orgoglio di tutti noi Per una volta Sì però il giorno dopo ci sono tutti i volontari vestiti Ericottero Oh c'è passato un ericottero No ti dicevo il giorno dopo di Halloween La mattina spesso si trovano C'è questo gruppo di volontari vestiti da supereroi Che vanno a ripulire le città Ah sì? Una cosa bellissima Sì E un'altra cosa che mi piace è per esempio che Spesso nei quartieri magari è sabato ogni 2-3 settimane Si trovano magari spesso persone anziane però non sempre Anche giovani che vanno a ripulire il loro quartiere Quello è anche quello che ho fatto È bravo Eh sì Ma anche perché secondo me in giappone associano molto la pulizia con la ricchezza Cioè se un posto è sporco vuol dire che è anche povero Sì forse sì Quindi per esempio anche il negoziante pulisce la strada davanti al suo negozio E anche i bagni della discoteca sono puliti Eh sì Incredibile Ma poi c'è anche scritto c'è proprio Hai mai notato che c'è una specie di tabellone con scritto che ora hanno fatto le pulizie Ah sì? Sì 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 Quindi ogni mezz'ora Ogni mezz'ora c'è qualcuno che passa a pulirsi Sì sì E vabbè Con la firma Allora il prossimo è i parrucchieri Ah sì Questo mi preferisco in giappone Cioè a parte che io in Italia ho trovato una parrucchiera che mi piace tanto e è brava Però in generale mi piace quello giapponese Perché il servizio è molto, come si dice, raffinato, cioè proprio verso i clienti massimo, come si dice, qualità di servizi Sì, cercano di dare la qualità migliore Sì 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 Cioè si fanno il massaggio Anche i head massaggi E poi anche... mi fa male qua in Italia quando mi lavano i capelli Deve essere metà seduta, ma non completamente come letto Ma in Giappone sempre completamente il sedile diventa così È vero Non in tutti tutti, ma spessissimo, in tantissime cose E quindi non mi fa male sul collo No E poi... Mi sento Mi sento Pazzoletto Una cosa divertente è che in Giappone quando praticamente ti lavano la testa Ti mettono un fazzoletto So In testa Poi dopo quando hanno finito di lavarti la testa magari ti danno anche uno shibori C'è un mio amico giapponese di Nara che mi ha detto Ma quindi domani vai a una convention di dottori Proviamo Domani io e Riccotto, vabbè questo uscirà probabilmente dopo che siamo già stati alla convention Però io e Riccotto avremo uno stand Abbiamo uno stand Suonano? E cosa facciamo? No, ci vengono a parlare e facciamo le interviste Eh? Si, cioè non è che facciamo le interviste ci vengono a dire delle cose Io non so... Ma neanche non so niente Posso dire che non so niente? Io ho detto che non so niente Non è che ne ho detto Vabbè Io taglio quasi sempre i capelli in Giappone però poco fa li ho togliati in Italia Come allora? Vedi che li ho un po' più corti Si? Si però voglio tagliarli un po' più corti Non so Sono indeciso Perché mi piacciono lunghi anche E poi Combini Ah combini è comodissimo Si Ci sono ovunque Sembra aperti Cioè in Italia devo avere tutto prima Per esempio preparare prima Cioè in Giappone anche se ti viene sete Che hai improvvisamente voglia di bere tipo Fanta O hai improvvisamente voglia di mangiare qualche dolce Ma qua in Italia sono tutti chiusi Ma in Giappone basta che vai a combini lo trovi Si Beh in realtà per il da bere basta anche che vai a una Jidokanbaki Che sono distributori automatici che sono ogni tre mesi Solo quando li cerchi non li trovi Però in teoria sono ovunque Ma lo sai che ci sono più dentisti che combini in Giappone? Ho sentito Suono? Si l'ho letto Ehhh Comunque vendono di tutto Non avete idea maschere per la faccia Liquido per le lenti a contatto Spazzolino, dentifricio Cravatte Camice Calzini Calzini anche si Anche per gli impiegati Per magari gli impiegati che hanno improvvisamente bisogno di cambiare qualcosa Lo basta che vai a combini Oppure una ragazza che magari sabato sera è uscita con uno E ha avuto un bel letto film E poi il giorno dopo si sveglia e non vuole andare in giro intacchi e vestito aderente alle 9 di mattina Vedi? Può risolvere con la Comodo Comodissimo Poi Il rispetto Rispetto Allora tu mi dicevi questa cosa delle province che mi è piaciuta tanto Ah no Cioè in Giappone ogni città Comunque c'è il rispetto Cioè non è che io Perché per esempio io sono di Nagasaki Allora io non dico male di Fukuoka che è vicino a Nagasaki Cioè a Fukuoka è diverso perché a Nagasaki si chiama così Cioè ogni città ci rispettiamo e ogni città c'è una cosa bella da rispettare Allora non so A Fukuoka si mangia bene rame Invece a Nagasaki si mangia bene shampoo Amiamo tutto Amiamo tutto Sì sì è vero No questa è una cosa interessante come si sono tra virgolette divise le varie cose Perché sai a Osaka sai che ci sono comunque i takoyaki da mangiare Okonomiyaki anche di Osaka no? Però se vedi a Nagasaki c'è quella di Nagasaki Sì 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 Spesso sulla tv fa vedere per esempio oggi siamo a Nagasaki e fa vedere tutto Di cose belle da dove visitare da cosa mangiare E fa vedere tutto il Giappone Quindi cioè ogni città è così è bello Sì e poi dopo per esempio che ne so in Hokkaido sai che buono il pesce che è bello fresco Okinawa sai che c'è un bellissimo mare Quindi devo dire che è una cosa carina come tutte le regioni ci hanno qualcosa che comunque possono offrire Poi un'altra cosa del rispetto anche secondo me il rispetto per gli altri anche molto importante in Giappone Per esempio se io ho il raffreddore mi metto la maschera per non fartelo prendere Anche semplicemente quando parliamo anche se siamo amici amici però di solito c'è un pochino di distanza Perché non diamo fastidio agli altri Sono le 5 e mezza Eriko tra 10 minuti dobbiamo andare in palestra quindi sbrighiamo Allora un argomento un minuto Allora un argomento un minuto 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 un min